C'è una mamma va con il suo figliolo dal dottore no? Allora gli fa dottore ma questo figliolo ma che cosa c'ha? Perchè c'ha sempre questo malessere insomma non è mai in forma dice guardi signora il suo figliolo c'ha una malattia che è una malattia strana perché con questa malattia o si more o si diventa scemi ma che è sicuro? E certo ce l'ho avuta! Io ne conosco anche ad uno vero!